Procedono le operazioni di carico propedeutiche al collaudo statico del parcheggio di interscambio della stazione. Questa mattina nuovo sopralluogo del vice sindaco Salvatore Mondello, accompagnato dall'ingegnere Armando Mellini che sovraintende alle operazioni. Tutto sta procedendo per il meglio, a breve sarà depositato il collaudo, assicurato il vice sindaco, quindi si potrà procedere con la seconda fase dei lavori, che è quella dell'utilizzo del parcheggio ultermodale. Ovviamente tale opera va vista anche in chiave di operazioni di mitigazione provvisoria, infatti come detto più volte le rampe di accesso saranno utilizzate come bypass per il cavalcavia, che nel frattempo è oggetto di verifica sismica e quindi a stretto giro. Avremo le risultanze di questa verifica che ci consentiranno di valutare se sarà necessario effettuare lavori di mitigazione e adeguamento sismico. L'aria, come già detto, sarà un parcheggio di interscambio per i bus che viaggiano fuori città e qualche auto, ma, come già precisato, anche un bypass per evitare il blocco della circolazione dell'aria del cavalcavia Cannizzaro. L'opera, i cui lavori sono durati circa 12 anni, potrebbe essere consegnata nei prossimi mesi. L'aria sopraelevata, circa 12 metri d'altezza, potrà contenere una trentina di autobus alla consegna. Bisognerà poi provvedere all'arredo come biglietteria, pensiline e panchine.